budget personale in excel le guide all'utilizzo di budget vincente il file che ho deciso di regalarti completamente prima di iniziare con questa serie di video tutorial dedicati esclusivamente all'utilizzo di questo file in regalo ti voglio ricordare tutti i canali dove mi puoi trovare mi puoi trovare nel gruppo facebook excel ha sempre ragione che è quel gruppo dove esattamente è nata l'esigenza di questo file qui da un sondaggio che ho fatto con la mia community chiedendo quale regalo volevano per primo quindi è nata l'esigenza di questo budget sono qui oggi a presentartelo a lanciarlo e a farti vedere come si utilizza c'è la pagina facebook excel ha sempre ragione dove ti chiedo di mettere un bel pollicione in su c'è il canale telegram se sei allergico a facebook per rimanere sempre comunque aggiornato con tutte le iniziative e ovviamente c'è questo canale youtube al quale ti chiedo di iscriverti per farmi sapere che ti piace quello che faccio e per darmi anche la motivazione di continuare a farlo e di continuare a migliorare sempre di più sia a livello di valore di contenuti sia a livello di comunicazione torniamo a noi quindi e in questo video andremo a vedere una prima panoramica del file budget vincente ho compilato per te un esempio passiamo alla registrazione dello schermo dove vedi questa fantastica dashboard con dei dati puramente casuali ovviamente quindi non fare caso ai numeri che vedi sono dei dati che ho compilato per farti vedere un file parzialmente compilato e come si presenta diciamo il file presenta cinque fogli che saranno di tua competenza tutti gli altri sono dei fogli nascosti diciamo che serviranno di appoggio al file e sono questi qua che vedi qua sotto colorati il foglio database il foglio transazioni il foglio budget il foglio dashboard kpi che è quello che stiamo vedendo in questo momento e il foglio report entrate versus uscite ok quindi andiamo a vederli velocemente velocemente uno per uno per poi passare ai tutorial dedicati a ciascuno di questi nel foglio database è il foglio dove tu dovrai compilare e personalizzare le tue categorie di entrate le categorie le sottocategorie delle entrate le categorie delle uscite le sottocategorie delle uscite e i conti ok quindi tipo il conto corrente la carta di credito i contanti paypal eccetera 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 diciamo che sono le fondamenta del tuo budget ci farò ovviamente un video forse più di uno dedicato a come compilare esattamente questo questo foglio quindi in verde vedi le categorie delle entrate in arancione quasi rosso vedi le categorie delle uscite e in grigio nero i conti il foglio transazioni è invece il registro quindi quello dove andremo a registrare tutti i movimenti tutte le spese tutte le entrate tutti i trasferimenti che faremo tra i nostri conti che sono diciamo oggetto del nostro budget poi c'è il foglio budget il foglio budget è un po il cuore di tutto perché è quello che ti permette mese per mese di gestire le tue le tue spese le tue categorie di spesa le tue categorie di uscita con un budget con un budget assegnato mese per mese quindi abbiamo una colonna di budget standard che è compilata nel foglio database e una colonna di budget effettivo che veniamo che vogliamo assegnare in quel mese lì e due colonne calcolate che sono queste qua effettivo e saldo queste grigie dove ci sarà automaticamente ovviamente la somma di tutte le spese che sono state fatte in questo mese relative a questa categoria e il saldo quindi tutto quello che c'era a budget anche prima di questo mese più quello che abbiamo messo a budget questo mese meno le spese effettive e qui abbiamo i totali quindi il totale messo a budget il totale speso il totale del saldo delle nostre categorie e qui in alto abbiamo alcuni dati interessanti l'avanza del budget precedente l'entrata del mese corrente messo a budget è quello che è disponibile per il budget vedremo tutto 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 nei tutorial dedicati ad ogni singolo foglio ad ogni singola attività che dobbiamo fare in questo video stiamo semplicemente facendo una carrellata in questo foglio hai anche due dati che sono la data di inizio dalla quale si inizierà a compilare questa intestazione quindi ho messo 1 gennaio 2020 quindi l'anno scorso e il primo mese utile è diventato gennaio 2020 se io cambio ci metto 1 1 2021 qui diventerà gennaio 2021 e il nome del budget che non è assolutamente obbligatorio ma serve semplicemente per compilare poi dopo la dashboard e i report in maniera un pochino più carina qui anche nella cella viola trovi la versione del file che al momento è la versione 1.0 non mancherò certo di notificarti quando e se eventualmente aggiornerò questo file e ti indicherò anche come effettuare l'aggiornamento cancelliamo il freccione e giusto per dirti il foglio budget ha un orizzonte di 5 anni e ti evidenzia anche in arancione il mese attuale quindi oggi è il 25 marzo del 2021 quando sto registrando quindi mi sta evidenziando il mese attuale e ha un orizzonte di 5 anni quindi in questo caso con data di inizio primo gennaio 2020 ridiamo fino al dicembre del 2024 ok andiamo avanti andiamo a vedere quella che è la dashboard dei kpi quindi qui abbiamo un report grafico ok filtrabile in tempo reale quindi abbiamo una sezione di intestazione dove a parte i loghi e il il nome quindi quello che puoi personalizzare nel foglio budget hai un grafichino ad anello con il saldo totale dei tuoi conti in questo momento ok ripeto sono numeri completamente casuali abbiamo poi la sezione dei filtri a sinistra dove filtriamo le categorie di entrata sopra dove filtriamo gli anni e i mesi e a destra dove filtriamo le categorie di uscita e abbiamo la parte centrale con i grafici e i report una colonna dedicata alle entrate quindi split percentuale diciamo delle entrate per categoria sotto categoria e beneficiario idem per l'uscita e categoria sotto categoria beneficiario e i due grafici invece mensili ok con entrate per categoria e uscite per categoria per mese se poi scrolliamo un pochino più in basso abbiamo il grafico del patrimonio netto per mese molto 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 interessante lo vedremo completamente nel dettaglio nel video dedicato che ti insegnerò anche come utilizzarlo come filtrarlo in tempo reale ultimo ma non ultimo che forse il report dettagliato più importante di tutti è il report entrate versus uscite quindi togliamo un po di zoom questo è molto più scarno graficamente perché vuole essere un po un campo di battaglia in questo grafico in questo report abbiamo solo i filtri temporali quindi anno e mese il fraccione mi è diventato enorme nel frattempo devo aver scasinato con la rotellona del mouse ci sono tre sezioni la più importante di tutte è la bottom line quella come dicono gli awanaganas che è il cash flow la differenza tra le entrate meno le uscite quindi questo è il nostro risparmio netto ok di ogni mese sotto abbiamo le entrate e qua sotto abbiamo la tabella più importante diciamo per analizzare dove vanno a finire i nostri soldi che le spese e le uscite con il dettaglio di tutte le macro categorie sotto categorie e beneficiario di ogni spesa ok quindi questa è la panoramica del file farò un video dedicato come ti ho detto per ognuno di questi fogli e ogni attività che dovremo fare quindi per questo video ci fermiamo qui ti ho fatto una carrellata sono circa otto minuti va più 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 che bene ti lascio e mi raccomando clicca qui o qui non mi ricordo non so da dove verrà fuori diciamo il link per il prossimo video di questa serie ciao ciao ciao